Il termo batte il Siena 1-0 nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia ed il prossimo 3 novembre ospiterà al Bonolis il Pescara negli ottavi di finale. Guidi fa turnover come nelle attese lanciando il tridente con K, Birligea e Rosso. A ben guardare però fa molto più turnover il Siena lasciando in tribuna tra gli altri anche Paloschi, Varela e Guberti. Il termo fa debuttare una delle nuove maglie e si fa preferire per occasioni nel corso del primo tempo. Bataloni tra i pali del Siena sarà infatti protagonista nell'evitare il vantaggio del Diavolo. E Rosso ad iniziare a testarne i riflessi al secondo minuto di gioco. I toscani fanno fatica a proporsi e salvo una mischia ad inizio gara hanno l'occasione migliore dopo il quarto d'ora. Questa volta è Peresin a testare i riflessi di Agostino alla prima da titolare che evita guai al teramo. Al diciottesimo il Diavolo torna avanti. Marcellusi sbaglia un appoggi in area ma Birligea trova il muro toscano ad impedire alla palla di passare. Un minuto dopo Guidi perde Trasciani per infortunio. Al suo posto fa il suo ingresso in campo Bellucci. Al ventitresimo Kappa rientra sul Mancino e trova di nuovo pronto Mataloni a negare il gol. Dagli sviluppi a Ziosmanovic pesca Cucurullo da solo che però non ha un impatto felice da due passi. Rossetti con il passare dei minuti sarà il migliore tra i biancorossi. Al trentunesimo è proprio lui a pescare Rillo che al volo non trova la porta. Cinque minuti più tardi è ancora Rossetti ad ispirare e trovare Cucurullo che non ha il guizzo vincente davanti la porta senese. Rosso si fa male poco dopo per uno scontro con Mataloni ma Guidi gli chiede di restare in campo e resistere fino alla fine del primo tempo. Al quarantaduesimo Rossetti si mette in proprio e disegna col Mancino un tiro a giro che trova ancora l'estremo classe 2002 a mettere in angolo. Ad inizio ripresa entrano Malotti per l'infortunato rosso e Bois per a Ziosmanovic. Il teramo passa poi al terzo minuto. Rossetti calcia una punizione col Mancino ma Taloni si oppone in qualche modo e lo fa anche su Bellucci. Nulla può però il giovane portiere quando arriva Birligea a portare avanti il diavolo. Istina prova a rialzare la testa ma Peresin trova ancora una volta Agostino in bello stile a negargli la rete. La gara va poi in congelatore per un lungo tratto dove a farla da padrone saranno i cambi. Per il teramo entrano via via Soprano e Montaperto, quest'ultimo fa il suo esordio. Istina torna a farsi vedere dagli sviluppi di un calcio d'angolo. L'incornata centrale di Terigi però trova solo Agostino. Al 37esimo Montaperto centra da meno dei 20 metri la traversa piena con tocco ancora del solito Mataloni. Pochi minuti dopo Boa pesca e Birligea in aria ma la rovesciata è preda ancora dell'estremo ospite. Mataloni sale di nuovo in cattedra poco dopo, prima su Malotti e poi ancora su Birligea a negare il raddoppio al teramo. Sono le occasioni su cui si spegne poi il match. Domenica prossima il teramo sarà ancora di scena al Bonolis per ospitare in campionato la Vispesaro, dovendo però valutare l'infortunio di Rosso. Per la Coppa invece sarà derby il 3 novembre proprio al Bonolis, sempre su gara secca, con Vis poi in campionato quasi subito dopo, il 14 novembre all'Adriatico Cornacchia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.